Sono partiti ieri gli esami di maturità per mezzo milione di studenti. Un esame di stato differente da quelli precedenti, ridotto al solo colloquio, secondo la nuova normativa disposta a seguito dell'emergenza sanitaria. Siamo stati con le nostre telecamere all'esterno dell'Istituto Tecnico Eugenio Pantaleo di Torre del Greco per raccogliere le prime impressioni dei maturandi. Tante le emozioni degli studenti che dopo quattro mesi di chiusura sono tornati a scuola ed hanno affrontato le difficoltà della didattica a distanza. Secondo giorno di esami di maturità, ai tempi del coronavirus, hai appena fatto l'esame, come è andata? Benissimo, gli insegnanti sono stati appunto accoglienti, ci hanno fatto varie domande sull'argomento trattati a scuola e ci hanno gesto il PCTO, lo svolgimento della prima prova di economia e ziendale, il testo appunto di italiano e appunto ci hanno gesto una nostra opinione personale anche sul coronavirus. E qual è la tua opinione? Io penso che comunque è stata una pandemia mondiale che ha coinvolto appunto tutto il mondo, però comunque ci ha fatto capire i valori che avevamo dimenticato, diciamo, secondo quelli di stare in famiglia e poi comunque diciamo che molte norme sono state importanti anche per il dopo di questo coronavirus. L'esame di maturità segna la fine di un percorso, che cosa porti con te di questa scuola e ora che cosa sogni di fare da grande? Porto con me tutti i ricordi con i miei amici, insegnanti, perché tutte le cose che erano brutte all'epoca, però in fondo sono belle. Michela e Linda, voi avete sostenuto l'esame di maturità, come è andata? Benissimo, i professori si sono molto messi a disposizione e ragazzi l'esame è facile, non vi preoccupate, se studiate andate bene. Questi mesi di didattica a distanza come sono andati? Sono stati difficili e abbastanza pesanti, perché comunque vederci dal vivo è molto più semplice, però con un po' di costanza si può fare tutto. La maturità è una tappa fondamentale nella vita di ogni ragazzo, tu guardi al tuo futuro, ti iscriverai all'università? Certo, penso di fare economia e commercio. Facciamo un augurio ai maturanti che sosterranno l'esame nei prossimi giorni. Ragazzi, non mollate, perché è semplice. Che significa aver sostenuto la maturità? Soddisfazioni, comunque maturare, crescere, nuove esperienze. Essere consapevoli delle proprie capacità, credo che sia la cosa più importante. Ed è stato un percorso più difficile in questi mesi con la didattica a distanza? Sì, è abbastanza difficile, perché abbiamo lavorato più del solito. Ma i frutti oggi si vedono. È stata una maturità diversa da quella che ci aspettavamo, è stata molto diversa, particolare, però è andata bene, siamo felici sia io che i miei amici che l'hanno già sostenuto. L'esame di maturità segna la fine di un percorso formativo. Cosa porti con te e ora, guardando al futuro, cosa sogni? Allora, porto con me ovviamente sia la parte educativa legata appunto al percorso di istruzione, però soprattutto i momenti con gli amici che ci sono tanto mancati appunto in quest'ultimo periodo. Non è stato facile per noi. Noi l'ultimo anno facevamo progetti su quello che dovevamo fare, gite eccetera, ed è stato tutto stroncato, ci siamo lasciati senza neanche salutarci e poi ci siamo rivisti oggi. Però credo che anche questo faccia parte delle esperienze, faccia parte di un percorso di vita toccato a noi e speriamo che questo possa incidere sul nostro futuro, sul nostro modo di approcciare alle cose. Ora ti iscriverai all'università? Sì, la facoltà è ancora un attimo in dubbio, però sì, il percorso continuerà cercando sempre appunto di non perdere di vista il percorso di studi, ma anche il divertimento e lo stare con gli amici. Una maturità quest'anno diversa a causa del coronavirus, tu sosterrai l'esame sabato? Sì, sono molto emozionato, sicuramente sono tempi particolari per tutti, ma soprattutto per studenti, professori e personale ATA che si ritrovano ad affrontare un esame di maturità sicuramente particolare in un periodo che ha cambiato la vita e la storia di tutti noi. Come sarà quest'anno l'esame di maturità? Sarà sicuramente difficile, serio, anche come ha detto la Ministra Zolina. I nostri docenti sono pronti a supportarci, ad esaminarci secondo la legge, come è stato emanato il decreto. È diviso in cinque parti, però siamo pronti e preparati. Questi mesi di didattica a distanza come sono andati? Sono andati bene, nonostante qualche problematica dovuta alla connessione internet, problematiche che sono state segnalate. Purtroppo non si è potuto intervenire in tutti i casi, però la maggior parte degli alunni hanno sempre partecipato attivamente. Un in bocca al lupo a tutti i maturanti che sosterranno l'esame in questi giorni? Ragazzi, forza, siamo già maturi, abbiamo vissuto tre mesi in casa questa didattica a distanza. Siamo forti, possiamo farci, i nostri professori ci appoggiano, tanto tanto coraggio.